Tra qualche giorno, precisamente il primo dicembre, lo sconto sulle accise dei carburanti verrà quasi dimezzato. Passeremo da 30,5 centesimi al litro a 18,5 centesimi di sconto sempre al litro e questo farà inevitabilmente aumentare la spesa riferita al carburante. Come fare allora per consumare di meno? Beh, vediamolo insieme. Benvenuti in questo nuovo video. Come detto nella intro, cercherò di darvi dei consigli utili per far consumare di meno i nostri veicoli e resistere all'impatto economico che un prezzo più alto dei carburanti avrà sul nostro portafogli. Beh, ve lo dirò subito, così se volete potete già stoppare il video senza poi lamentarvi dicendo che parlo troppo. Beh, l'unico vero metodo per consumare meno, molto meno, è quello di alzare il nostro piedino destro dal pedale dell'acceleratore. Tutti gli altri consigli e trucchi come carburanti specifici, additivi, pneumatici a basso consumo aiutano, sì, ma il loro impatto è piccolo, soprattutto se confrontato con il risparmio a doppia cifra percentuale dato dalla diminuzione della velocità. Beh, il discorso è piuttosto semplice, ma ho voluto farlo perché nonostante ci lamentiamo tutti del costo eccessivo dei carburanti, continuiamo ad utilizzare l'auto in modo spesso errato, prendendola magari anche quando non sarebbe necessario e soprattutto viaggiando a velocità elevate per giungere al punto di arrivo, spesso senza averne neanche magari bisogno, ma solo perché tutti noi ci siamo abituati a questo stile di guida. Non sto parlando di cose che non conosco e non ho sperimentato, ma di dati reali provati sulla mia pelle e nelle mie tasche, anche se, lo ammetto, alcune volte è stato davvero difficile. Ne avevamo già parlato in questo video, qui vi spiego meglio come mi comporto con l'auto, ma ho deciso di riprendere questo discorso perché ho sperimentato e confermato ancora di più quello che vi avevo già detto e quello che andrò adesso a dirvi. Da giugno mi è capitato di fare lunghi viaggi, fra gli 800 e 1200 chilometri fatti in uno o due giorni, partivo il sabato e rientravo la domenica o addirittura nel giorno stesso. Il primo viaggio l'ho fatto tutto a velocità codice, tutto in autostrada, solo una trentina di chilometri fatti su strade normali per imboccare e poi lasciare l'autostrada. Beh, la mia auto, una T-Roc 1.6 diesel, ha fatto in media i 17,5 chilometri al litro. Nei viaggi successivi però ho deciso di anticipare l'orario di partenza e diminuire la velocità di crociera. La velocità scelta è stata di 110 chilometri orari. Il tratto autostradale era quasi identico, ma questa volta ho portato a casa una media chilometrica che ha sfiorato i 22 chilometri al litro. Un risparmio quindi enorme, quasi 5 chilometri in più con ogni litro di carburante. Questa grossa differenza da cosa è data? Cercate di seguirmi perché ci sarà un po' di fisica da tenere in considerazione, soprattutto quella legata al fattore che più di tutti determina un grosso consumo delle nostre auto, cioè la resistenza aerodinamica. Beh, dovete sapere che la resistenza all'aria è direttamente proporzionale al quadrato della velocità dell'auto e quindi la potenza che è data dal prodotto della forza per la velocità risulta proporzionale al cubo della velocità. In parole povere, questo vuol dire che raddoppiando la velocità la resistenza non raddoppia anch'essa, ma sarà addirittura 8 volte maggiore. Nel mio caso, cioè passando da 110 km orari a 130, la resistenza aerodinamica è quasi una volta e mezzo maggiore. Una differenza enorme. Ecco perché il consumo diminuisce in maniera così netta. Il motore viene sottoposto ad uno sforzo decisamente minore anche solo diminuendo la velocità di 20 km orari e tutto questo comporta per forza di cose ad una minore richiesta di carburante e quindi ad un consumo minore, senza tenere neanche conto di quanto altro si risparmi in consumi di pneumatici, usura generale dell'auto e anche, cosa non da poco, sulla nostra salute fisica e mentale. Personalmente ho trovato il viaggio molto più rilassante. L'utilizzo consapevole del piede destro nel momento in cui aziona il pedale dell'acceleratore poi determina anche altri fattori. Aumentare e diminuire la velocità in maniera compulsiva fa perdere anche l'energia di movimento che accumuliamo durante la marcia. Se acceleriamo tanto per poi frenare tanto ne perdiamo parecchia. Se invece guidiamo in modo costante anche nelle città basterà un filo di acceleratore per conservarla e questo aiuta a consumare meno, molto, molto meno. Lo sforzo maggiore si fa nel momento in cui si accelera. Una volta raggiunta poi una certa velocità e quindi spesa una certa energia per farlo, questa energia rimane a disposizione della marcia stessa aiutando il motore a non sforzare di più. Se invece acceleriamo tanto per poi frenare subito perdiamo anche questo vantaggio. Quindi mettiamo da parte un po' del nostro ego e cerchiamo di abituarci a guidare in modo o meno sportivo, cosa che non ha senso nella vita di tutti i giorni e aiutiamoci ad avere abitudini più tranquille e non ne godrà solo il nostro portafogli ma anche la nostra mente e il nostro corpo. Perché ve lo posso assicurare nonostante ci abbia messo un po' di più per affrontare questi viaggi all'arrivo ero fresco come una rosa. Meno stress equivale a molta meno fatica ma per questo però non ho un calcolo specifico da proporvi. A parte gli scherzi non vi nascondo che la prima volta è stata dura dal punto di vista mentale perché mi sembrava quasi naturale mantenere quella velocità in autostrada. La voglia di schiacciare quel maledetto pedale era tanta ma sono bastati due o trecento chilometri per abituarmi a tutto questo e poi è filato tutto liscio. Quindi mettiamo da parte un po' di ipocrisia e non prendiamocela sempre e solo con gli altri e soprattutto su una cosa come i viaggi in automobile. Qualsiasi essi siano perché è davvero necessario correre sempre, prendere l'auto anche solo per fare poche centinaia di metri, accelerare in vista del semaforo e tante altre piccole cattive abitudini che abbiamo accumulato in anni ed anni di guida. No, non lo è. Può capitare di essere in ritardo o di dover raggiungere un luogo più in fretta possibile ma questo non deve diventare la regola. A volte basta mettersi in macchina cinque minuti prima o arrivare a casa la sera cinque minuti dopo. Niente di davvero traumatico. Se poi volete fare i piloti di Formula 1 ogni qual volta vi mettete in macchina siete liberi di farlo ma poi non lamentatevi del prezzo dei carburanti. So benissimo che molti mi daranno del vecchio, del lento, è già successo sotto il precedente video ma qui non ne faccio un discorso di stile di guida ma uno prettamente economico e in questo periodo storico molto fragile da questo punto di vista credo che sia importante, più importante dell'ego. Solo questo. Bene, penso di non dover aggiungere altro. Spero che il video vi sia piaciuto e se è così allora un like e l'iscrizione al canale sono sempre ben graditi. Basta, ci si vede al prossimo video allora. Ciao ciao!